E' stato siglato un protocollo tra Congesi e Sorical, che cosa ci dice a riguardo? Sì, è proprio un accordo operativo, cioè nel senso che questo accordo regolamenta la fase di passaggio del servizio di integrato, dal gestore Congesi al gestore unico regionale, che nasce sulla scorta della riforma fatta in Calabria alla legge 10 del 2022. Operativamente stiamo nella fase in cui stiamo trasferendo tutto quello che è necessario trasferire al nuovo gestore unico e dal 1 gennaio 2025 il gestore del servizio diventa Sorical, anche nei 14 comuni fino ad oggi gestiti da Congesi. Il personale sarà assunto da Sorical? Sì, questo lo prevede la legge, nel senso che tutto il personale, le 94 unità lavorative che sono a carico di Congesi passeranno a Sorical. Nei prossimi giorni si dovrà aprire un tavolo con le organizzazioni sindacali per decidere le modalità con le quali passare il personale. E qui si apre una discussione su se dovrà avvenire in continuità o se dovrà avvenire attraverso licenziamento e riassunzione. Per quanto riguarda Congesi, lo abbiamo già espresso, noi siamo dell'avviso che deve essere applicato esattamente quello che è previsto dall'articolo 173 della legge 152, cioè il passaggio in continuità. Quindi non il licenziamento dei lavoratori, ma i lavoratori passano da Congesi al nuovo soggetto gestore.